Una manciata di ore all'ingresso in zona gialla, tra poco infatti sarà la gognata liberazione anche da tante restrizioni che ci portiamo dietro da tempo. Con i negozi già aperti riaprono anche i ristoranti, i pub, le gelaterie con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e cena veloce, perché alle 22 bisogna essere a casa per il coprifuoco. Per il caffè espresso al bancone c'è una guerra in corso. Fino al 31 maggio si legge nell'ultima circolare del governo relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto. Tra interpretazioni e contro interpretazioni su questo punto è un cortocircuito con i locali che a Firenze si mobilitano. Abbiamo già dato più di mille autorizzazioni l'estate scorsa, le abbiamo mantenute con l'azzeramento della COSAP del canone del suolo pubblico. L'assessore Gianassi ha il lavoro per cercare altri luoghi. Cercheremo di fare il possibile perché anche questa misura che distingue locali che hanno solo spazi chiusi e locali che hanno spazi all'aperto è una misura tutto sommato da superare. Quindi faremo tutto il possibile per garantire degli spazi aperti ai vari locali della nostra città. Per quanto riguarda gli altri capitoli del giallo ritrovato, riaprono cinema e teatri con un massimo di mille spettatori all'aperto e 500 al chiuso. I musei riaprono anche nel fine settimana, mentre il sabato e la domenica restano preclusi ai grandi centri commerciali fino a metà maggio.